il leader della lega accogliamo l'invito della santa sede più tutele per due ragazzi o ragazze che si amano la libertà di amare è sacra i paletti alpidi sugli articoli 1 4 e 7 sul ddl zan il leader della lega matteo salvini lancia un appello a tutti i partiti accogliamo l'invito della santa sede troviamoci entro domani e condividiamo insieme un testo che aumenti le pene per chi discrimina o aggredisce due ragazzi o due ragazze che si amano la libertà di amare è sacra per il segretario del carroccio se dal ddl zan togliamo l'ideologia il coinvolgimento dei bambini e l'attacco alla libertà di pensiero intervenendo sugli articoli 1 4 e 7 finalmente si smette di litigare si approva una norma di protezione civiltà e poi se il pd invece prosegue salvini rifiuterà ascolto e dialogo invocati anche da tante associazioni e movimenti di gay lesbiche e femministe si assumerà la responsabilità di affossare questa legge a me non interessa litigare io lavoro per risolvere i problemi e proteggere gli italiani conclude l'apertura da parte di salvini arriva dopo settimane di ostruzionismo da parte di un altro leghista il senatore andrea ostellari relatore del ddl zan ma soprattutto la mossa del carroccio è scattata dopo la proposta di mediazione avanzata dall'ex premier matteo renzi e sostenuta dal sottosegretario di italia viva ivan scalfarotto il ddl zan l'ho votato ma senza consenso ampio in aula si rischia un vietnam ma la mossa dei renziani ha mandato su tutte le furie il pd e il m5s per questo il sentiero che dovrebbe condurre a una soluzione si annuncia assai tortuoso grazie a tutti Grazie per la visione!